silvia salemi che bello averti finalmente sulle onde funky buongiorno e benvenuta la musica la comunicazione quante ne sai paola fanchigallo se ti potrei dire lo stesso l'arte in senso generale la musica e soprattutto cosa che io ho sempre apprezzato di te cara silvia è l'impegno cioè tu non hai mai ma mai dico strizzato l'occhio alle cose semplici dall'inizio sino ad arrivare a chagall che diciamocelo è una gran canzone ma non è certo un pezzo radiofonico come tu mi come tu mi insegni è vero è vero è vero me la sono sempre un po complicata io la vita perché le cose semplici mi piacciono solo quando si tratta di musica ma non fare cose facili esatto superficiali hai detto bene tu c'è sempre l'impegno la fatica il rischio il rischio è sempre il mio messaggio no tutti mi dicono ma falla una canzone semplice no paracula come si dice in gerda mi viene non mi viene però mi piace molto essere vera allora rischio di essere giustamente anche criticata perché magari non mi allineo a quelle che sono le logiche attuali io dico sempre nella musica c'è spazio per tutti è un fattore assolutamente lì chi mi va dove vuole perché la chimica delle emozioni quindi lasciamola stare libera com'è hai detto emozioni e io che ti conosco da qualche mese ho nel cuore ho nel cuore una parola che tu hai scelto per titolare un tuo disco e che secondo me ti riassume ovvero pathos vero la mia vita è stata tuttora pathos oppla ti sto perdendo eccomi il pathos è il motore che mi dà tutti i giorni l'energia per fare le cose perché mi porta questo questo fiato questo respiro questo movimento dell'anima che appunto è il pathos quando diciamo empatia dentro c'è la parola pathos c'è il movimento dell'anima che io amo proprio perché mi fa fare le cose silvia e nonostante la fatica che tu però vedo e so affronti quotidianamente nel senso anche essere madre oggi soprattutto oggi no è un impegno dicevo quindi nonostante l'impegno riesci a come dire insomma impegnare ecco le tue energie sia in una fase artistica che in una fase privata come ti rigeneri si rigenera paola sono stanca morta sono finita sono morta finita mi sono messa stamattina c'è una mascherina di pelle praticamente per sembrare un attimo no allora bisogna dire che facciamo un lavoro meraviglioso faticoso ma di lavori faticosi veri con la f maiuscola ce ne sono ben altri quindi fare la mamma fare la musicista la conduttrice scrivere comunque sono cose di cui essere grati perché chi non è grato prima o poi prende qualche schiaffo dalla vita allora ringraziamo per quello che abbiamo stiamo facendo cose bellissime in una fase tra l'altro anche molto difficile preoccupiamoci di chi non le può fare perché quando ci fermiamo noi piccoli esseri come gli artisti siamo no si ferma tutto un sistema quindi pensiamo a loro che hanno veramente le difficoltà che hanno veramente la difficoltà di riprendere di non avere magari il turno di trucco il turno di chitarra in sala che non possono montare il palco perché non ci sarà il pubblico allora pensiamo a questo tutto il resto si fa paola si fa non ci lamentiamo assolutamente senti e chagall che tra l'altro ha un modo di pennellare aveva e comunque a perché l'arte a questo no di bello che è eterna così un pastoso così blu così speranzoso non un caso forse che tu abbia pensato di inserirlo in una canzone proprio in questi giorni in questo periodo tu leggi sempre tra le righe sei sempre profonda io ho sempre detto che la funky gallo è profonda e lo dico con affetto perché sai entrare nelle persone quindi so che c'è anche una nota di così di attenzione è un periodo particolare sarebbe stato facile parlare di post lockdown e piangerci addosso invece ho cercato come dice baglioni un gancio in mezzo al cielo e il gancio in mezzo al cielo la cosa più vicina alla divinità è l'arte chagall per me è un piccolo dio terreno nel senso che trasforma cose che non ci sono le porta in vita le fa nascere le creano e quindi il tratto di chagall mi commuove credo abbia commosso anche i miei colleghi autori con cui scritto questa canzone rettani e giacomo eva e ci siamo trovati veramente a condividere il senso della bellezza ci ha sollevato devo dire parlare di chagall ci ha fatto sentire non più in alto e degli altri ma con l'animo bello leggero parlando di arte arte accostata alle emozioni e sei immediatamente in un'altra dimensione silvia molte tue colleghe hanno accettato credo per gusto per anche forse una forma di di volontà di attualizzare il no il proprio percorso hanno accettato di duettare con personaggi del rap della trap comunque su alcuni personaggi che oggi affollano la programmazione musicale te l'hanno proposto ti piacerebbe succederà me l'hanno assolutamente proposto mi hanno proposto tra l'altro anche dei nomi belli forti con cui o per dire verso i quali ho anche ammirazione perché per me come ti dico come dicevano di noi quando siamo arrivati nella nostra generazione a perché veniamo dal rock perché voi non siete niente perché si fa la musica si fa in piatta con la contestazione oggi la contestazione non esiste più la contestazione sono loro sono questi treppi sono questi artisti che fanno questa musica generazionale quindi come ti dicevo prima c'è posto per tutti al momento io non mi sento ancora allineata per la mia musica a fare quel tipo di racconto però la fila ascolto li rispetto li stimo sento le mie figlie che ne parlano benissimo e poi c'è un fatto che per fortuna ci distingue loro non sono cantanti sono diciamo degli aedi dei cantori del nostro tempo perché non non cercano l'impegno vocale in quello che fanno non è che fanno dei virtuosismi loro vogliono raccontare con i loro testi dei disagi e quindi vanno rispettati io questi disagi li vedo nella generazione ma non li posso raccontare non li posso rispecchiare quindi per ora non mi sento pronta forse ad un altro giro sì però sarà difficile che mi metto a fare la canzone estiva il motivetto facile questo no magari la contestazione può anche star bene come mamma per tirar giù un argomento ma il motivetto facile non non mi appartiene però lo dico con rispetto beato chi lo sa fare perché si sa anche divertire con quello io non riesco sono onesta non ci riesco però pensaci perché pensa il punteggio con le tue figlie se tu accettassi mai un featuring però già è tanto e tanto che ci condividiamo lo spotify e non gli dico di cancellarmi le loro playlist dalla mia già è tanto se una mamma generosa sì c'è poco per tutti paola guarda veramente io voglio continuare a fare il cantautorato perché qualcuno lo deve fare sto cantautorato e che cavolo no no ma è vero guarda io sono d'accordissimo con te come trovo banale il discorso alla gente piace questo non è vero alla gente bisogna dare l'opportunità di scegliere il contenuto tanto quanto insomma il cazzeggio no l'importante è offrire supermercato paola tu hai questi diecimila prodotti davanti di riso non ne hai uno solo di riso ne hai dieci marchi sei tu che scegli allora bisogna offrire tutto alla gente è chiaro che ripeto la paraculata mi piace questo termine tanto ormai ho 42 anni la parolaccia la posso di uscire col motivo facile piace a tutti ti facilita la vita ma poi a me rimane che quando mi chiama la gallo e mi dice tu sei sempre impegnata e fai sempre cose in salita io dove la trovo la soddisfazione se la gallo non me lo dice più ma sai che io ti dico che anche anche forse la tua canzone più pop più conosciuta a casa di luca anche quella non era una paraculata capisci cioè adesso a parte turiri turiri era una canzone che aveva dentro di sé la contestazione senza urlare senza rabbia senza parolacce senza mandare a quel paese nessuno perché guardate è molto facile mettere il sedere fuori perché il sedere è carino ce l'abbiamo tutte ce lo sistemiamo ma con la parolaccia con la cosa quanto può durare la dici una volta dici due poi se quella delle parolacce è difficile dopo ragazzi è difficile assolutamente immagino che tu questi discorsi li faccia anche con le tue figlie già ti vedo con quel sorriso ma determinata insomma ad educare sbagliano uguale come sbaglio anche io come mamma però ci provo educare secondo me è una forma proprio di rispetto per il mondo anche no perché più ci si rispetta più si riesce a vivere in serenità silvia velocemente attrice artista conduttrice sei riuscita a mettere nel tuo curriculum comunque nella tua vita tutte queste forme diverse di arte rimane però immagino la musica quello che muove il cuore guarda la musica in tutto quando ho fatto l'esperienza teatrale l'anno scorso cantavo che aveva una parte recitata la grossa parte recitata ma c'era la parte cantata e lì respiravo quindi musica quando ho scritto il mio libro ho parlato di me che faccio musica quando faccio un disco in musica quando sono in radio parlo di musica in televisione ci metto la musica la musica sicuramente è il motore immanente il motore fermo lì immobile della mia vita che però a me da movimento e da dalla ragione di essere quando non ci sarà più la musica sarà una no calma calma senti chagall diventerà per ora voglio dire sicuramente una canzone che un video insomma che i nostri che chi frequenta le onde chi frequenta la musica e la comunicazione può trovare ha in mente un progetto più ampio guarda se il professor dottor eccellenza giuseppe conte non me lo blocca si facciamo un discorso assolutamente in linea con la fase storica tutti io sto scrivendo con questo gruppo di lavoro meraviglioso con questa squadra questi questi brani che stanno prende è chiaro che vorremmo metterli fuori nel momento più propizio perché possano arrivare più persone possibile grazie a di oggi c'è lo streaming e quindi nel momento in cui decidi di mettere fuori un brano il brano lo ascoltano esiste non è come prima che deve arrivare nei negozi la distribuzione i camion che potrebbero rischiare appunto di essere bloccati dal lockdown però indubbiamente se ci sarà un lockdown tutto questo non si potrà fare come vorremmo quindi stiamo rallentando ma la macchina è in movimento nel frattempo faccio la radio che che non è male non è assolutamente male anzi posso dirti insomma che ti apprezzo anche su quel grado che che tanto mi sta che tanto mi sta a cuore silvia io ti ringrazio perché è veramente sempre un privilegio condividere delle parole con te e a presto ci aggiorneremo anche perché mai come in questo momento ci vogliamo bene ai tuoi affezionati siamo possiamo dirlo io conosco la funky gallo da qualche mese come dice lei e beh è sempre stata così preparata materna intelligente generosa che non è da tutti ti ringrazio sempre amica mia commossa ti saluto ciao ciao paola grazie grazie a tutti grazie a tutti